MEDE 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 Benvenuti nella League of Rage Oggi andremo a trattare della lettera C Caitlyn Lo sceriffo di Piltover Ok, questo è facile Chi non odia avere lane Caitlyn? Cioè, nessuno ovviamente. Praticamente la lane sarà tutto un po' di auto-attack perché il suo range è tipo il più auto-gradutile 10 però ovviamente la rieto non basta questo, perché ovvio. Cioè lei ti pusha, ti tiene sotto torre, bene ora devi stare sotto la tua seconda torre perché le sue stupide trappoline saranno sempre lì sotto la tua stessa torre. Se tu provi a metterti tipo sopra per uno sbaglio oppure perché provi a toglierle, lei inizierà a darti tante di quelle mazzate per colpa della sua passiva e sì praticamente il game sarà a te secondo la tua seconda torre sperando che il game finisca il prima possibile perché non ne vuoi più Cassiopeia l'abbraccio del serpente che cazzo mi sta a significare l'abbraccio del serpente? Comunque sia fuck Cassiopeia no, seriamente avete visto che razza di figa ovviamente ignorando la sua parte da serpente allora Cassiopeia dovrebbe essere un mezzo serpente no? allora perché cazzo è una micraglietta in game? Cioè quando hai Cassiocoyo quando hai Cassiopeia contro prega in ogni lingua che tu non venga avvelenato nell'esatto momento in cui in cui questo succederà preparati a morire perché le speranze che tu sopravviva sono molto poche poi ovviamente alla Riot non c'è dici eh ma basta che schivi la sua cu e la sua adesso non ricordo quale skill perché si per toglierti il veleno cioè per evitare il veleno si si come se bastasse perché lei ha la sua ulti la guardi vieni stunnato non la guardi verrà slowato del 66% e buona fortuna a schivare quel 60% di slow perché è tanto è tanto il 60% poi vabbè la sua passiva è una passiva tipo è tipo Nidale hai tutto hai 6% di spell vamp 25% di cooldown redaction 30% di più di ap una villa una limousine e ovviamente tua magra Chogat il terrore del vuoto a me fa ridere che la Riot nella descrizione delle skill mette cose tipo silenziando per una breve durata quando poi il silence di Chogat dura 2 secondi e mezzo che su League of Legends è tantissimo c'è minchia in 2 secondi e mezzo in late game si fa tempo a fare 2 team fight più un quarto di vita del Drake poi vabbè non so ulti che a livello 3 fai 650 più 70% della p totale e non ti preoccupare Darius che adesso arrivo più tardi è scronzo non è proprio una bella cosa da avere contro soprattutto se questo colosso decide di andare full AP e restare comunque tank perché ottiene vita bonus dalla passiva della ulti Pay Champion che fa uscire la Riot vero? Corky il bombardiere spericolato ok c'è una cosa che non ho mai capito di Corky anche prima del rework perché tanto funzionava così anche prima anche se leggermente di meno allora secondo la Riot Corky è l'AD carry più magico del gioco e fin qui ci sta però mi sorge un dubbio come puoi definire qualcuno AD carry che sta per attack damage carry se poi dopo la fin fine fa più danno magico che fisico vabbè la Riot si foma spinelli e anche lo sapevamo già però comunque passiamo avanti la sua nuova passiva il pacco trasforma la sua bella valkyria che sarebbe il suo escape in una ulti di rumble intendevo dire lo trasforma in un engage straordinario se lo sai usare bene oppure in uno dei migliori escape che sia mai esistito cioè provate a prendere un corky che utilizza la W dopo che ha preso il pacco sono tipo due flash e mezzo se sei abbastanza vicino lui viene sbalzato via e viene anche slowato vabbè poi dopo vabbè i danni che fa i danni che fa di di W sono una roba che dovrebbe essere una una skill utilizzata solo per ringazzare o disingazzare e fa danni quanto uno ulti poi vabbè la sua mitraglice gatling ti stupra altamente l'armor la magic resist così manco avesse la penetrazione ibrida è giusto prendere la cosa più difficile è buildarsi armor magic resist non saprei mai cosa fare perché sono una di carry però faccio più danno magico che cazzo mi buildo con questa roba ok finalmente questo era l'episodio c perché non ha un numero sì l'episodio c di league of rage e niente il prossimo sarà la d do you want some d vabbè comunque sia questo episodio l'ho registrato in modo diverso perché prima praticamente prima ricercavo i video e poi dopo adattavo quello che dicevo al video mentre adesso ho scritto quello che mi veniva in mente guardando dalla wiki e poi dopo vado a ricercare i video generici di cose che succedono e sì perché sì negli episodi prima nell'episodio mi dicevo tutto a caso ho guardato un po' cosa dovevo cosa dovevo dire all'incirca però tipo era quasi semi-improvvisato mentre stavolta avevo una bella linea da seguire vabbè noi ci vediamo con un prossimo episodio e godetevi la nuova outro come at me and you'll see I'm more than meets the eye you think that you'll break me you're gonna find in time you're standing too close to a flame that's burning harder than the sun in the middle of July didn't let you on me but you still can't win listen up silly boy cause I'm gonna I'll tell you why I fly